Continua la lite a distanza e lo scambio di frecciatine tra Barbara D'Urso e i fratelli Rodrigues. Dopo il rifiuto di Jeremias e Cecilia Rodrigues di partecipare a Domenica Live, dopo lo smacco della conduttrice, ringraziando Dio facciamo il 22% di share anche senza di loro, e dopo la risposta dei due argentini, arriva un'altra doccia fredda per la sorella di Belen. Nel corso della puntata di ieri di pomeriggio 5, infatti, Barbara D'Urso ha commentato la sorpresa che Cecilia ha fatto al suo ignazio nel corso della semifinale del GFVIP. La showgirl argentina, infatti, ha mandato un messaggio d'amore per il suo fidanzato che terminava con lei che rientrava nel tanto discusso armadio. Io non ci sarei mai più rientrata dentro all'armadio, tornando ha commentato Barbara D'Urso. Però io ho più esperienza, ho un curriculum, ho un lavoro, faccio questo da 40 anni, quindi ho più esperienza. Evidentemente l'ingenuità loro. Immediatamente, Carina Cascella e gli altri ospiti in studio hanno applaudito alle parole della conduttrice brava, brava, anche io la penso così, risponderanno ancora Cecilia e Jeremias Rodriguez. Grazie. Grazie. Grazie.